Insomma però Alba, questo Gipsy in Vanilla, cose? Un'occasione per viaggiare trovando ogni volta una nuova scusa Non sarete certamente soli in questa avventura e vi investirà la travolgente energia mia della Giulia alla regia e la Pookie al microfono Non c'è angolo del globo che non merita un viaggio Un paio di rubriche fisse La nostra travel blogger ufficiale Simona Sacri per scoprire l'immenso universo degli estates La valigia immaginaria e pronti via, si parte Anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo Quindi iscrivetevi al canale YouTube Ciao!